EA Sports, it's in the game. ...della difesa avversaria. Punizione perfetta, chirurgica, che ha lasciato di stucco il portiere. Traiettoria fantastica, il portiere avrebbe avuto bisogno di un miracolo per arrivare. ...pericolo, ecco il tiro. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Palla in out, calcio d'angolo. Sicuro, il tappeto del portiere che va in presa. Parte il tiro, attenzione, ecco il gol. ...questo enorme regalo da parte del portiere, l'hanno punito. Il portiere l'ha fatta davvero grossa. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Il proettsina del otto di Coro Skills, una mangiung... La regia ci ripropone il luogo ...a che è visitata, guardia, che è la laurea di macchina. La regia ci ripropone deve andare a essere a ora senza ovom GG... ...가 città, ma c'è s'est Things Unmupi diForce.